Dentro Caravaggio, una vita di capolavori, nasce dalla collaborazione tra la storia dell'arte e le più avanzate tecnologie nel campo del multimedia. A seguito del successo ottenuto dalla mostra e principalmente dall'enorme interesse generato anche in un pubblico non tecnico, si è pensato di elaborare un prodotto multimediale che, pur mantenendo una struttura e dei contenuti rigorosi, permetta una fruibilità universale. Il conoscitore, come il semplice amatore, potrà approfondire il pittore attraverso la spiegazione dettagliata di una selezione di 24 opere e di una serie di contenuti speciali realizzati grazie alla collaborazione di studiosi e artisti di eccellenza come Maurizio Calvesi. Il DVD si propone di presentare una giornata lettura delle opere e della vita del Merisi con una modalità di consultazione e uno stile narrativo innovativo in grado di coinvolgere lo spettatore in un viaggio virtuale nella creatività di uno dei più grandi artisti italiani mai esistiti. L'alta risoluzione delle immagini descrittive delle opere consente di esplorare i dipinti indagandoli nei particolari. L'opera offre allo spettatore lo stato dell'arte sulla vita e le opere del grande maestro, riassumendo tutte le informazioni necessarie per comprendere e approfondire la conoscenza del genio Lombardo. Il DVD è composto da tre segmenti, Caravaggio secondo Calvesi, nel quale vengono sciolti i principali nodi interpretativi del Caravaggio a partire dalla biografia dell'artista e dalle sue innovazioni, prima di tutte l'utilizzo simbolico della luce. Le opere. Lo spettatore potrà vivere per la prima volta o rivivere il percorso della mostra, con il vantaggio di poter indagare a fondo ogni singolo particolare del dipinto messo a fuoco da una voce narrante accompagnato da musiche originali. Storaro Caravaggio, narrare con la luce. Il vincitore di tre premi Oscar per la fotografia, Vittorio Storaro, propone un affascinante viaggio nelle luci e ombre di Caravaggio, svelandone i segreti tecnici e le implicazioni simboliche. Dentro Caravaggio, una vita di capolavori.